La pioggia accaduta copiosa martedì ha colpito anche il trasporto pubblico locale. In molti autobus, soprattutto in quelli più vecchi, è piovuto dentro a denunciarlo. Sono stati molti utenti che hanno segnalato diversi casi di autobus allagati al vicepresidente della provincia di Padova, Vicenzo Gottardo. Cittadini che hanno lamentato che all'interno degli autobus, stiamo parlando ovviamente degli autobus più vecchi, quelli dei primi anni del 2000, entrava una quantità d'acqua, tanto da dar fastidio a bagnare i viaggiatori all'interno dei mezzi. Quindi viene sollevata un'altra questione importante dall'ente di governo, quindi provincia e comune di Padova, nei confronti di Bus Italia sul bisogno, sulla necessità di rinnovare, di ammodernare il parco mezzi. L'acqua entrava dai finestrini o dal tettuccio, in alcuni casi provocando disagio ai passeggeri, costretti a viaggiare bagnati e rischiando anche di scivolare a terra. Il parco mezzi di Bus Italia è di 530, destinati al trasporto urbano ed extraurbano. Nel piano dell'azienda, specifica Gottardo, c'è un rinnovo di quelli più datati, immatricolati nei primi anni del 2000. C'è assolutamente necessità di questa sostituzione dei mezzi, perché appunto oltre ad essere anche non più idonei come caratteristiche anche di sicurezza e di rispetto per le norme sull'ambiente, sono anche molto vecchi e quindi necessitano di manutenzione. Quanti ne dovrebbero essere sostituiti? In totale sono 230 i mezzi per i quali entro la fine dell'anno prossimo è prevista la sostituzione. Grazie a tutti.